Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori ci sono code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze. Sulla Statale 1 Aurelia per lavori tra Follonica Nord e Follonica Est scambio di carreggiata, chiusura dello svincolo di Follonica Nord in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 12 della Betone e del Brenner ho chiuso il tratto tra Borgo Ammozzano e Bagni di Lucca. A Firenze da domani al 6 febbraio in Via Pratese per lavori alla rete del gas ci saranno modifiche alla viabilità. Può aversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!